Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial di spiego come risolvere i problemi riguardo all'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato del KB503521 ovviamente sul mio Windows Update, aggiornamenti disponibili per l'installazione, ovviamente io posso scaricarli e installarli senza problemi, come puoi vedere devo installare così questi aggiornamenti, gli ultimi usciti su Windows 11 e quindi se hai problemi proprio a scaricarli e installarli sul tuo sistema puoi sempre vedere sul catalogo di Microsoft Update, come puoi vedere il KB5035121, come puoi vedere l'aggiornamento, cioè prodotti.net 8.0, aggiornamenti di sicurezza, come puoi vedere 8.0.2, security update, sono identici quindi se hai problemi a scaricare questi aggiornamenti su Windows Update puoi sempre vedere sul catalogo di Microsoft Update, quindi una volta fatto, una volta cercato il tuo aggiornamento, come puoi vedere pesa 698 MB, clicca su scaricamento eccoli qua, ed eccoli qua, tutti gli aggiornamenti della protezione .net .net hosting, tutti, tutti che finiscono come .exis, io adesso clicco su uno solo mi fa scaricare il primo ok, eccolo qua, una volta fatto questo il nostro aggiornamento, quindi ti farò vedere cosa devi fare con il primo aggiornamento, quindi scarica e fai installa, quindi esegui come amministratore e fai sì e in microsoft.net 8.0.2 ovviamente se hai problemi proprio a scaricare sul catalogo Microsoft Update puoi scaricarli anche sul sito che ti ho lasciato in descrizione ed eccoli qua i nostri .net 8.0 non gli sdk, ma questi altri qua, .net runtime asp.net core runtime e basta, questi sono quindi come puoi vedere Linux, Mac e finestre che sarebbe Windows tu devi cliccare sempre sul pacchetto di hosting oppure il per 64 per 86 quindi puoi scaricare uno di questi tre per 64 e per i sistemi operativi a 64 bit e per 86 32 bit quindi se non deve andare il per 64 usa il per 86 se non va a questo qua, metti il pacchetto di hosting quindi una volta fatto eccolo qua installazione di microsoft.net 8.0.2 accetto installo così l'aggiornamento se non me lo fa installare qua sopra e allora mi arrancio con Windows Update ok sta andando installazione completata correttamente quindi fai la stessa cosa con tutti gli aggiornamenti qua sopra una volta scaricati e installati puoi cancellare direttamente questo pacchetto lo cancelli e riavvi pure il tuo sistema operativo io ovviamente devo pure installarli qua sopra quindi faccio installa installiamo proprio tutto quindi installa tutto faccio così la stessa cosa con l'altro aggiornamento esegui come amministratore e lo installo il .net sdk come puoi vedere lo stesso che si trova su questo sito e faccio installa installazione non esce l'installazione non esce da caso di uno o più problemi risolve problemi ripeto installazione per altre informazioni vedere questo è l'errore il pacchetto di installazione non supportato al tipo di processore quindi il mio processore non supporta questo aggiornamento quindi non lo scarico non lo installo passo al secondo quindi in questo caso se non ti fa neanche installare l'aggiornamento attraverso il pacchetto devi per forza provarli tutti e vedere il tipo di prodotto come puoi vedere .net 6.0 oppure li puoi scaricare direttamente da qui qua sta cercando così l'aggiornamento e cerca aggiornamenti in corso già due aggiornamenti tre aggiornamenti già me li ha fatti installare quindi se hai bisogno c'è il catalogo c'è il net framework e la ricerca di windows update se non dovesse funzionare il windows update puoi sempre andare sui servizi centri fino a giù fino a trovare il windows update eccolo qua tipo di avvio mette automatico è stato il servizio in esecuzione se a te è su avvio quindi devi cliccare su avvia e poi fai applica quindi se questo video ti è stato utilissimo oppure se hai altri problemi a scaricare questi aggiornamenti fammelo sapere sotto al video e mi raccomando cerca il tuo tipo di prodotto il tuo tipo di aggiornamento che devi fare su windows e vedi anche se te lo fai installare attraverso il pacchetto di installazione della microsoft quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao